Le nuove tecnologie hanno impartato la vita dei nostri clienti, non solo in ambito bancario ma in generale, quindi per noi è fondamentale essere al passo coi tempi ed essere pronti a servire i nostri clienti con le modalità che vogliono, nei posti che vogliono, con gli orari che vogliono. Per questo la filiale tradizionale, che è un po' quello che caratterizza la banca, rimane nel modello di servizio di Intesa San Paolo e si affianca con tutta una serie di altri canali e strumenti di relazione. La filiale digitale, con dei colleghi che rispondono al telefono e che hanno quindi la possibilità di fornire informazioni, consulenza, soluzioni, la app, il sito e perché no, tutto il mondo legato alla transazionalità attraverso ATM, MTA, Munei, tutto quello che in qualche modo ci permette di raggiungere i nostri clienti. Cosa vi richiedono i vostri clienti? Perché vi siete dovuti comunque evolvere, insomma, siete anche la prima banca che... Ci chiedono di essere vicini, semplici, empatici e di ascoltare. Queste sono, come dire, le caratteristiche principali. A questo si aggiungono conoscenze, competenze e solidità che in qualche modo i nostri clienti danno per scontato nel parlare di Intesa San Paolo. E quindi oggi potranno dare per scontato anche parlando di Easy Bank, la nuova banca digitale del gruppo.